Marco Colosi di Enel, Giuseppe Cannone di FDM Business Services e il Tandem Rosa di Pfizer, Laura Guerra e Rossella Lucchini. Dobbiamo andare leggermente più veloci di quanto avessimo preventivato. Anzi io mi metto di qua, perdonatemi ma non sono un grande amante degli sgabelli. Seguo il giro che ho seguito prima e parto da te Marco, con cui vorrei allargare un po' lo sguardo sul customer care. L'avete detto in tanti, l'assistenza virtuale non rappresenta almeno per ora la panacea di tutti i mali. Anche perché, correggimi se sbaglio, si va in realtà ad aggiungere e non a sostituire ai canali tradizionali. Anche Vodafone parlava adesso di voce, whatsapp, web, chi più ne ha più ne metta. Come si trova però il giusto equilibrio? Perché anche per voi credo che il canale voce non sia proprio secondario. No, assolutamente, hai assolutamente ragione Andrea. L'assistente virtuale non si va a sostituire mai su nessun canale in toto all'aiuto dell'essere umano. Ovviamente quello che dobbiamo fare, e questo possiamo farlo solo chiedendolo al cliente, è far eseguire in automatico quelle operazioni che sono più a basso valore oppure su cui un essere umano non dà nessun valore aggiunto. Per esempio la comunicazione dei consumi, per esempio su un caso elettrico, non ha nessun valore aggiunto parlare con un essere umano. Invece nei casi più complessi, quelli in cui il cliente si aspetta un aiuto concreto, anche un'empatia diversa, fare il corretto routing verso un assistente. Ma infatti l'assistente virtuale non ha soltanto il compito di realizzare operazioni automatiche, ma ha anche il compito di comprendere l'esigenza del cliente e eventualmente passarlo al gruppo operatori o al gruppo di caring adatto alla risposta per quella domanda. Quindi è un duplice lavoro quello che fa. Fa pure un po' di lavoro sporco per intenderci. Fa quello che faceva l'Ivoar dieci anni fa o ancora oggi per tante aziende. Invece di premere uno se, premi due se, di che hai bisogno, il cliente risponde e rispetto a questo indirizziamo poi la chiamata verso il gruppo corretto. Prima hai parlato di empatia, cioè è un po' questo forse il carattere unico che l'intelligenza artificiale non può imitare, almeno per ora? Sì, diciamo che l'empatia di essere umano non è replicabile oggi. Certo c'è un'empatia che si può realizzare, cioè se un cliente comunica di avere un guasto, invece di dirgli ti passo un operatore, mi dispiace, ti passo un operatore. Ci sono piccole accortezze che si possono apportare sui motori virtuali per rendere leggermente più piacevole l'esperienza. L'educazione paga sempre, insomma. Giuseppe, mi sposto da te perché vorrei ritornare sul tema delle riduzioni dei costi, che lo sappiamo benissimo, è spesso il primo motore dei piani di trasformazione digitale delle aziende. Però a me è capitato, me l'hanno raccontato spesso imprenditori e manager, che poi strada facendo saltano fuori delle vere e proprie opportunità di sviluppo del business in generale, che magari non erano state nemmeno pensate. Io ho parlato prima di effetti collaterali negativi dell'AIP, c'è questo effetto collaterale positivo? Lo avete vissuto anche voi? Sì, allora, sicuramente c'è e va ricercato nel fatto che Ida, per come l'ho chiamata prima, ha memoria, ha una grandissima memoria, una memoria teoricamente infinita, che l'operatore reale non ha. Ida, quando legge un documento, diciamo, e lo interpreta con il suo motore semantico, immagazzina una quantità di dati che evidentemente prima non venivano immagazzinati, se non nella poca memoria dell'operatore che legge una richiesta e immagazzina qualcosa per pochi attimi. Questa quantità di dati è gratis, perché viene da sola con il processo che è stato messo in piedi. Sono dei dati che vengono fuori da documenti destrutturati e diventano strutturati, sono dei dati a disposizione dell'azienda per tanti altri processi. Pensiamo all'antifrode, pensiamo a processi predittivi, di analisi predittiva, che devono essere alimentati da dati. Quindi di fatto questo effetto collaterale, in questo caso positivo, da solo può tranquillamente valere i costi di implementazione che invece sono stati sostenuti per un altro processo. Ti posso chiedere anche una curiosità, cioè come partner tecnologico sentite magari rispetto al passato anche una responsabilità in più in termini di diffusione della cultura digitale? Qualcuno ha parlato di evangelizzazione digitale. Sentiamo una responsabilità nella sinergia, cioè nel rendere disponibile ai nostri clienti tutte le esperienze maturate e renderle sinergicamente disponibili. Oggi noi abbiamo maturato esperienze in tanti settori, abbiamo fatto errori in tanti settori, abbiamo imparato lezioni in tanti settori, sentiamo la responsabilità di renderli disponibili a chi approccia queste problematiche per la prima volta. Mi sposto dal tandem rosa, che è un tandem appunto non a caso, perché prima ci avete spiegato che il vostro è stato un progetto condiviso tra diverse divisioni aziendali. È stato duro condividere la governance? Ovviamente scegliete voi chi risponde perché non vorrei rompere l'idilio che ho visto prima. No, no, comincio io. Sì, come abbiamo evidenziato durante la presentazione, in realtà il problema più grande che abbiamo dovuto affrontare durante l'implementazione di questo progetto è stato proprio il fatto di allinearci fra noi, con tutte le strutture globali che abbiamo e quindi creare una sorta di governance che potesse essere da una parte garantire la compliance, garantire tutte le regole, ma dall'altra parte un'agilità e una velocità nella gestione. E' abbastanza facile, anche se volevo dire che è un caso piuttosto fortunato, forse è anche un esempio ed è il motivo per cui ci tenevamo ad essere qui insieme di estrema collaborazione fra team di marketing e la parte tecnologica dell'azienda. Ed è, dicevo, facile, forse per noi siamo nello stesso ufficio, viene più semplice, ma poi riportandolo a strutture globali è decisamente più complesso. Quindi sì, però poi alla fine siamo riusciti e quindi... Anche perché insomma l'IT viene sempre vista un po' come la stanza dei cattivi. Prima avete parlato anche delle lezioni imparate, ve le portate per fare cosa adesso? Sì, sì, assolutamente. Vogliamo, diciamo, non da soli sempre, quindi chiederemo aiuto. Noi per esempio abbiamo anche un health care hub, cioè noi facciamo anche scouting di start-up oppure con aziende che hanno già molto solide in quello che può essere ovviamente il supporto più tecnologico. E quindi l'idea è quello per esempio di utilizzare l'intelligenza artificiale anche per esempio per la diagnosi precoce di una malattia rara piuttosto che ragionare su dati predittivi nella resistenza antibiotica e anche associare alla radiomica per poter avere anche qui delle diagnosi più chiare e più definite in oncologia. Quindi questo sicuramente sono degli sviluppi che abbiamo in mente, insomma, che vorremmo portare avanti e che ci dovrebbero e dovrebbero soprattutto aiutare la parte clinica che è fondamentale ovviamente e quindi essere al servizio non solo dei pazienti ma anche dei medici in modo diretto per poi arrivare al paziente. Anche internamente però mi sembra che vogliamo fare... Non so se Rossella... E' andato in autonomia, mi sembra... Intanto dopo questa esperienza dell'assistente alla disfazione al fumo sono partiti altri progetti molto simili in altre aree terapeutiche quindi ne abbiamo una per l'emofilia già attiva abbiamo creato degli altri chatbot interni per la navigazione attraverso le procedure e poi anche altri progetti sempre di intelligenza artificiale per esempio sulla validazione e sul controllo delle note spese quindi tanti progetti in quest'area che hanno avuto la spinta e l'inizio da questo. Mi raccomando non perdete l'affiatamento e mi sembra fondamentale. Laura vengo da te e ovviamente ti sei giocata prima il bonus dei tempi quindi dovrei essere rapidissima io in particolare vorrei tornare al volo sulle lezioni imparate perché spesso magari uno fa i conti alla fine c'è invece qualcosa che secondo te vale la pena sottolineare di cui vi siete resi conto in corso d'opera? C'è qualcosa che magari non vi aspettavate? Ma guarda il consiglio più grande che mi sento di dare è partite in piccolo ma pensate subito in grande dove volete arrivare quindi anche se aprite un piccolo canale va benissimo ma pensiamo sempre a dove vogliamo arrivare per non dover rifare o ristrutturare delle cose. E si parte dalle esigenze dell'azienda, dal profilo degli utenti? Noi siamo partiti dal cliente quindi abbiamo identificato nel nostro caso inizialmente l'app come essendo il canale più utilizzato come il bacino per raccogliere più richieste da parte dei clienti e da lì abbiamo strutturato tutto il processo. Partirei dal cliente in generale. Io ti prometto che tratterò meglio Tobi. Allora a me non resta che ringraziare gli ospiti per i contenuti ringraziare voi per averci seguito e richiamo il nostro chairman Alessandro che vedo in lontananza. Grazie. In lontananza, all'orizzonte. Bene.